Salve a tutti, sono Davide Livermore, metto in scena in questo che è un teatro straordinario, il Maggio Fiorentino, Il Rigoletto, che è opera maestra, insomma, da Victoria Hugo, le Ruassa Musi, il Rezzi di Verde, Verdi, Compiave, hanno creato un capolavoro assoluto che racconta le nostre umane fragilità in una maniera struggente, straordinaria e senza tempo. Vi aspettiamo in streaming, in sogno, sì, sognateci. Grazie.